Perché sarà sicuramente una risposta che guideranno. Noi non siamo tecnici, era un figlio. No, qui ci sono degli atti di assunzione di responsabilità tra i gisi, dell'amministrazione comunale, del sindaco, della giunta, e non so di chi altro, sicuramente di qualche consigliere comunale e qualche consigliore. Quindi non provassero a scaricare le porte. La realtà è che loro hanno fatto un bando assolutamente illegittimo. Questa è la verità. Oggi noi abbiamo la fortuna che questa scuola è finita, ma sicuramente andremo in fondo a questo problema. Perché non ci si può chiamare a condividere determinate scelte per poi essere sistematicamente messi da parte con i nostri consigli, con le nostre proposte, e pretendere che ci sia un'amministrazione, con un'opposizione costruttiva. Per me l'opposizione costruttiva da oggi significa che io non parteciperò più a nessuna conferenza di capigruppo per quello che attiene il mio gruppo, e non parteciperò più a nessun incontro che la maggioranza vuole fare con l'opposizione per affrontare determinati problemi. Perché questo lo si può fare quando uno si accorge di essere preso in considerazione, ma non quando si accorge di essere usato dall'amministrazione per dimostrare la cittadinanza che veniamo coinvolti, e poi sistematicamente il nostro coinvolgimento consiste nella mezz'ora in cui sediamo assieme a noi. Questa è la domanda.